Leo, nove anni, spiritoso e fragile. La sindrome di Down, non un capriccio ma un momento di difficoltà quando martedì pomeriggio ha creato un po' di scompiglio in centro a Tirano. Si è attardato sulla strada, la madre ha provato a convincerlo, traffico bloccato per pochi minuti. Troppi per un automobilista che ha perso la pazienza, con una manovra azzardata ha superato la mamma con il bimbo e li ha insultati. Il post della donna sui social, che ha ricevuto centinaia di commenti e condivisioni, non è un semplice sfogo, ma una lezione di dignità. Caro automobilista che oggi verso le 14 su Lungo Adda a Tirano sei stato rallentato da un bimbo piccolo con sindrome di Down mentre andavi al lavoro. Ti dico solo mi dispiace, scrive Laura Ferrero. Sono la sua mamma ed era in difficoltà a gestire una sua fatica e mio figlio lei era molto in difficoltà a gestire se stesso e non riusciva a farsi capire. Lui purtroppo ha bloccato il traffico per 5 minuti, che possono sembrare pochi ma per chi va al lavoro possono essere tanti. Mi spiace che tu abbia deciso di fare una manovra pericolosa in macchina per superarlo. Nessun altro lo ha fatto e saranno stati tutti un po' infastiditi. Quella manovra è stata non solo pericolosa per il mio bambino, ma è irrispettosa. Ci hai anche insultato, passandoci accanto, e ti assicuro che né io né Leo avevamo voglia di vivere le nostre difficoltà in mezzo alla strada. Caro automobilista, oggi tu probabilmente godrai di salute e gioventù, ma la vecchiaia, la malattia, ti porta a sperimentare le tue fragilità e ad avere bisogno di comprensione e aiuto. Spero che non incontrerai persone poco tolleranti e indifferenti come sei stato tu con noi, perché fa male. Oggi puoi decidere di cambiare atteggiamento e farlo insieme a chi ti circonda. Mi ricordo della tua macchina aziendale e del tuo viso. Se ti incontro, avrei piacere di farti conoscere il mio Leo, che oltre a tante fragilità ha anche enormi risorse, è spiritoso, autonomo e ha voglia di fare la sua parte nel mondo. Un messaggio all'accoglienza, alla comprensione delle fragilità, nessuna accusa o rabbia, non servono per aumentare la forza delle parole di Laura.